Entriamo nella stanza Così andiamo a tirare i nostri Ah, c'è i nostri lego I nostri baure E i lego, chi non potrebbe conoscere queste due Quando veniamo Almeno di più di mille lego Oh no! C'è una lettera Di chi è? Non credo Però, vabbè Ciao Ciao, no Voi ancora non mi conoscete Io sono l'amica del signore S Io non ho un canale YouTube Ma comunque farò delle prove E una con i lego Oh ya ya Firmato signora S Allora, però non capiamo C'era un po' essere che quando lo scrive C'era scritto Un minuto, un grano, un minuto, un piccolo Oh, tolte modi Ah, mi ne ho perso Ah, mi ne ho perso Non ho scelto Davo, come se è? Hanno rubato i nostri milioni di milioni di lego Vedete? Non ce n'è manca una goccia Meno male Si, l'ha rubato? La signore! Scusa Strana di qualcosa di molto stress Comunque Può essere che saranno quelli dei paraggi Di sicuro Comunque Allora Vabbè Vabbè Vedremo se Vedremo trovare Com'è che è l'amica del signore Se non è così Non credo che riuscirà Vero, sergente? Si, siamo parti Noi stavamo dormendo Era di notte Vabbè Ciao a tutti Benvenuti in un nuovo video Ecco qua Abbiamo una mega casona Ancora più grande di prima Abbiamo sempre questa parte Uguale Solo che ci sono stati piccoli cambiamenti Ma poi continua Cioè Qui dove lavorano Il lavoro fanno il parco giochi Giustiscono il parco giochi interno E qui c'è un'altra parte Per le ragazze Che come se gli piace Con il scienzo Che hanno questa parte Che bello Che si capisce Perché c'è il fiore La bianca E via E poi abbiamo un piccolo Il salone di bellezza Poi abbiamo La macchina Leone Liguana Perché non si capisce Se è una liguana Un leone Comunque può andare Su qualunque Super felice Acqua E tutta E tutta Poi Andiamo Lui Lui Stimando Abbiamo un piccolo laghetto Molto 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 Carino E poi E poi Questa parte Che è la macchina Sua Per facere i capelli E poi C'è La fantastica Parte di sopra Che si può togliere E poca parte di sopra Facoltà Si di fatto Però C'è anche la Cosa E comunque Quella Per sfida Signoressa Ci ho rubato Tutti Tutti E E' la mia E' la mia Mio Almeno Deci Mio Diecimila Che è Lanzissimo È Così Vuoto Guapissimo Tuffa! Tuffa! Bene, però, come avete visto, o chi non l'ha visto, intanto diciamo che in pratica la signore, se non neanche avete visto qui, chi lo dice, non è vero, è una cosa a farsa, far tutte le vere cose le trovate in questo canale. E comunque cominciamo l'episodio, cioè cominciamo l'episodio di Rosolego, episodio 8. Oh, mi piace molto questa nuova, come si chiama, ah ecco, balcone spa. E' bellissima! Mmm, che bello, mi piace molto. E non vedo l'ora di farmi nuovi capelli con il nuovo macchinario, tutti spinnati, tutti bellissimi, neri, spinnati. Come ne avevo fatto la mia sorella, è bello. Mi piace molto. 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 Mi rhinitiamo. E' anche un po' ilachelo, perché ha scacciato gli animali. Sì, ti piace lo che ho fatto? Sai che è l'ultimo attimo Guarda Perché c'è un solito livello Che ci sono solo due cose precise Comunque che bello Allora Siamo tutti Proprio bene Siamo dentro casa E incomincio a vestire per il mio allenamento mentale E inizio a ammazzare animati Sono un cacciatore Sono un cacciatore È un cacciatore Sono un cacciatore Come 주� te come in Bona Cosa Ah-ha-ha-ha Pronto 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 Non c'è un minuto Non c'è un minuto un po' di griglio, un po' conero un po' conero un po' per tutti i colori un po' per te un po' conero vediamo tutto di tutti i colori vado a ammazzare gli animali ovviamente non è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.